E ciao a tutti ragazzi qui XWill e ben ritrovati nel mio canale e in questo nuovo video oggi siamo qui ritornati con ormai una voce che cambia sempre più repentinamente a causa dei vari sbalzi di temperatura Ma signori oggi siamo qui perché Rockstar ha finalmente annunciato la data d'uscita del nuovo DLC che arriverà su GTA Online per tutte le piattaforme Il DLC si chiamerà San Andreas Mercenaris e arriverà il 13 giugno Ovviamente prima di andare a vedere cosa conterrà questo nuovo DLC vi invito come sempre a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale Commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i video del nuovo DLC Vediamo un attimino cosa ha da dirci Rockstar Games in merito a ciò San Andreas Mercenaris in arrivo il 13 giugno unisciti a una squadra di rinnegati e distruggi la Meriwether e altri avversari nell'ultimo aggiornamento di GTA Online Non è un segreto che la Meriwether Security sia corrotta fino al midollo Ma adesso giravoce che stia cercando di aumentare il volume degli affari e di eliminare i malviventi rivali a Stouter San Andreas Per i professionisti del settore criminale questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso È tempo di colpire con decisione Spicca il volo insieme a una squadra di piloti d'elite ed ex militari per affrontare le imperiose forze della milizia privata più potente di San Andreas In GTA Online San Andreas Mercenaris un nuovo aggiornamento ricco d'azione che ti porterà per le strade nelle acque nei cieli dal 13 giugno Riassumento avremo queste nuove missioni per conto di qualche ex militare e robe del genere dove attaccheremo la Meriwether Roba che praticamente facciamo da una vita attacchiamo la Meriwether sin da quando è uscito GTA proprio Proprio noi dobbiamo rompere costantemente il collineo io la Meriwether da 10 anni a questa parte E qui troviamo una foto dove possiamo vedere un tizio con quella che sembrerebbe essere una carabina in mano E dei tizi che si paracadutano verso una porta aerei E poi ci scrivono L'esperto meccanico e asso dei cieli Charlie Red sta assemblando una squadriglia di diabili, aviatori e mercenari noti come Los Angeles Per svolgere proficui lavori privati tra furti di dati importanti da server farm, assalti e lancio di esplosivi su bersagli di rilievo in tutto lo stato Con l'aiuto di Charlie il Mammut Adventure diventerà un centro di commando aereo dotato di un nuovo terminale operativo e armi potenziate In più gestirai nuove imprese di prezioso contrabbando a terra e ti imbatterai in diverse opportunità secondarie per sottrarre denaro e oggetti di valore a bersagli in movimento E qui abbiamo una foto del nostro carissimo Charlie che da oggi in poi ci romperai con il telefono Diciamo sarà un po' il Dax della situazione e ci potenzierà l'Avenger Diciamo che sembrerebbe essere ciò che è accaduto col Brickade, no? In buona sostanza Dax ci ha modificato il Brickade rendendolo un qualcosa di utile Dato che era inutile, stessa roba sta accadendo con l'Avenger Dato che l'Avenger nessuno lo usa, nonostante sia comunque un po' mezzo devo dire Adesso possiamo aggiungere ulteriori modifiche rendendolo molto più performante E qui abbiamo poi una foto dell'Avenger modificato dopo appunto l'arrivo di Charlie Come vedete viene aggiunta tipo una batteria di missili qui sotto Sicuramente aumenterà la blindatura e robe di questo tipo Magari anche un po' la velocità del mezzo nonostante sia già veloce Poi quando uscire il DLC ovviamente lo modificheremo tutti insieme Sia i contrabandieri più esperti che quelli di primo pelo Possono approfittare di una gamma di modifiche pensate per i proprietari di Avengers e Hangar Come la possibilità di conservare e personalizzare l'Avenger nell'Hangar O perfino di accedere all'Avenger senza disporre di un Hangar o base operative Arma la tua squadra, sistema l'Hangar, metti a punto l'Avenger E affina le tue abilità nel contrabbando per prepararti alla battaglia Quindi cosa molto importante adesso sarà possibile acquistare l'Avenger Anche avendo solamente l'Hangar oppure addirittura senza disporre né di Hangar né di base operativa Prima era obbligatorio avere la base operativa per possedere un Avenger Poi qui troviamo una foto con una squadriglia come possiamo vedere Abbiamo quella che sembrerebbe essere una nuova arma e la nuova auto Sembrava una Suzuki se devo essere sincero dalle forme E poi ci scrivono Con il prossimo aggiornamento di GT Online ricco di molti altri contenuti come nuovi eventi casuali Un nuovo mitra tattico perfetto per sparare mentre si è alla guida Prove a tempo giornaliere e molto altro Quest'estate non c'è il limite al divertimento In più non perderti altre migliorie all'intera esperienza di gioco offerta da GT Online Grazie ad altre modifiche richieste dai giocatori Tra cui quando chiami l'assicurazione potrai riscattare tutti i veicoli distrutti in una volta sola Meno male era una cosa che serviva Una modalità alternativa di scattare tenendo premuto il tasto designato che verrà aggiunta al menu delle impostazioni Descrizioni personalizzabili per i garage per localizzare rapidamente i propri mezzi preferiti La Willard Eudora e l'Albany Classic Broadway saranno utilizzabili per gli incarichi da tassista se dotate dalla livra taxi Aggiornamenti al creatore per incorporare accessori opzioni meteorologiche extra tra cui la neve Quindi oltre alle novità avremo anche altre novità richieste dalla community Cosa che Rockstar sta facendo ultimamente ossia ascoltare la community con gli ultimi DLC Di fatti appunto abbiamo la possibilità di riscattare tutti i veicoli distrutti in una volta sola Che è una cosa incredibile meno male che l'hanno aggiunta Una modalità alternativa di scattare non so cosa intenta se foto o scattare a piedi nel senso che corre il personaggio Descrizione per personalizzare garage è una cosa top Perché quante volte vi capita magari di avere una sfilza di garage Prendere un veicolo e non sapere dove vada a finire Ecco così possiamo personalizzare il nome del garage Per esempio se io ho un garage che si chiama Maurizio E il veicolo suo che va nel garage di nome Maurizio Io posso andare nel garage di nome Maurizio e pigiarlo Il fatto che la Willard Eudora e l'Albany diventino dei taxi niente male era una cosa che ci stava Non aveva senso effettivamente GTA Online San Andreas Mercenaries sarà disponibile per tutti i giocatori di GTA Online A partire dalla PS5 e a finire dal PC Dal 13 giugno Continuo a seguirci per altre informazioni e bla 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 E qui abbiamo una nuova auto che sempre dovrebbe essere una nuova Vapid Davvero niente male Molto cattiva Bella Tra l'altro nell'immagine che apre il DLC La presentazione del DLC Abbiamo in vista, in bella vista dei nuovi jet Quindi chissà se saranno più performanti del laser Se no Vedremo, vedremo un attimino Questo è tutto ciò che Rockstar ci ha detto in merito al nuovo DLC Devo dire che non mi aspetto nulla di che sinceramente Saranno delle missioni molto probabilmente simili a quelle che abbiamo fatto con Dax Che comunque attenzione non sono malvagie Magari sarà anche un bel DLC Il problema sarà il fatto che è uno di quei DLC che durano poco Cioè già in una settimana vi siete sparati tutto E infatti ciò che Rockstar fa per tenere più attivi i giocatori E rilasciare pian piano nel tempo vari contenuti Quindi staremo un po' a vedere Detto ciò io direi che per questo video posso essere tutto Fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra in merito a questo DLC Se secondo voi sarà un flop o un top Io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale Commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti Se avete voglia seguitemi su Instagram e TikTok E noi ci vediamo con un prossimo video Woohoo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.